buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 16 febbraio 2024 è una giornata piuttosto nebbiosa questa mattina c'era molta molta nebbia molta umidità quindi siamo ancora nel pieno dell'inverno quindi questa è la stagione che ci propina il tempo oggi vedremo più i particolari nelle condizioni del tempo oggi intanto passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccola è santa giustina no santa giuliana non santa giustina santa giuliana santa giuliana di nicomedia una santa martire che morì sotto la persecuzione di diocleziano e vi invito a saperne di più su questa santa perché la sua vita fu piuttosto travagliata ma ella si incamminò sempre sul sentiero dell'edificazione ovvero quello della santità insomma una santa veramente da imitare e vediamo ora le previsioni del tempo Cieli in prevalenza poco nuvolosi anche oggi ma con una formazione di banchi di nebbia dalla sera i venti saranno al mattino e al pomeriggio deboli il mare quasi calmo le temperature 6 gradi la minima 10 la massima il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 17.35 ed ora possiamo vedere cosa ci dicono i giornali oggi a partire dal resto del Carlino sulla pagina di Fano l'apertura è dedicata alla manifestazione degli agricoltori che si sono radunati con i loro trattori già nella giornata di ieri in un appezzamento di terra nei pressi del parcheggio del casello dell'autostrada A14 ecco il titolo l'assalto dei trattori vogliono stancarci e oggi intanto è atteso il clou ieri erano 80 quelli schierati vicino alla rotatoria dell'autostrada per stamattina sono attesi quasi 200 mezzi da tutta la provincia convergeranno appunto su Fano dopo che nei giorni scorsi l'hanno fatto su Pesano quindi una manifestazione che ha coinvolto sappiamo ormai anche dai Tg nazionali tutta Italia, tutte le regioni d'Italia ma anche nella nostra regione le difficoltà della produzione agricola che è il settore primario della nostra economia si fanno sentire e che cosa, come si evolverà la protesta di oggi lo leggiamo appunto dai giornali, dal Carlino il quale ci informa che dalle 9 alle 12 un lungo biscione di trattori si snoderà dall'area di sosta alle spalle del casello dell'autostrada il nuovo parcheggio che è stato realizzato nell'ambito delle strutture alternative fatte dalla società autostrada procedendo poi sul cavalcavia che sormonta la 14 fino all'incrocio con via Campanella e da lì i manifestanti proseguiranno lasciandosi alla loro destra il Codma fino alla rotatoria di Centinarola lungo la Flaminia qui svolteranno nuovamente a destra superando l'altro cavalcavia sull'autostrada fino ad imboccare via Roma e poi arriveranno ad incrociare l'Interquartieri e qui dalla rotatoria alla rotatoria della Coop vicino al seminario regionale il corteo svolterà in via Giovanni Paolo II verso Sant'Orso da cui poi entreranno nel quartiere attraverso via Soncino andando avanti fino al bar Polvere di Caffè oltre per ritornare poi al punto di partenza ovvero nel campo vicino al parcheggio del casello della 14 è tutto un malumore quello che esprimono gli agricoltori la svolta green andrebbe anche bene se non fosse una presa in giro hanno dichiarato in verità vogliono farci smettere per quanto riguarda la nostra protesta noi non lasciamo più andare avanti e quindi chiediamo un sostegno concreto questo è un po' quello che chiedono gli agricoltori e poi la prima pagina viene condivisa la prima pagina del Carlino questa mattina viene condivisa dalla protesta anzi diciamo così dalle richieste che hanno fatto i componenti del comitato di Viale Cairoli in merito al sottopasso ferroviario che divide un po' in due il Viale e costituisce una barriera per il collegamento tra il centro storico e il Lido ufficiale la soprintendenza boccia il sottopasso di Viale Cairoli boccia il progetto di ristrutturazione di ampliamento di questo sottopasso progetto che è stato fatto dalle ferrovie dello Stato le ferrovie dello Stato hanno realizzato un progetto che prevedeva l'abbattimento di ben 16 alberi ed un corridoio d'ingresso molto lungo che costituiva un grosso impatto ambientale sul Viale questo è stato contestato sia dagli ambientalisti infatti alla protesta si è aggregata anche la lupus in fabula di Claudio Orazzi che ha manifestato tutto il suo apprezzamento per il detto per il diniego che ha pronunciato alla soprintendenza ed ora Comitato e lupus in fabula chiedono che il Comune attivi un concorso di idee per realizzare un progetto più contenibile dal punto di vista dell'impatto ambientale che salvaguardi gli alberi e soprattutto non sconvolga quella immagine di Viale ottocentesco appunto che la soprintendenza vuole preservare ed ora parliamo di politica perché ieri c'è stato un appuntamento importante per quanto riguarda la politica fanese è stata formalizzata la candidatura a sindaco di Stefano Marchegiani per il gruppo dei progressisti il gruppo dei progressisti composto da Movimento 5 Stelle Bene Comune, Azione, Fano dei Quartieri, Volt, Partito Socialista, Ribella questa è un po' la composizione di questo gruppo alternativo a quello del centro-sinistra diciamo così, sono tutti e due che si oppongono al centro-destra ma per distinguerli diciamo che da una parte c'è il gruppo dei progressisti dall'altra c'è il centro-sinistra che fa perno in modo particolare sul partito democratico poi ci sono anche le liste del sindaco ma lì la situazione è un po' controversa perché alcuni esponenti delle liste del sindaco sono passati tra i progressisti lo stesso sindaco fa parte di Azione Azione che è un partito rappresentativo dei progressisti tanto che ha espresso il candidato sindaco quali Stefano Marchigiani insomma c'è questa divisione che ormai sembra netta tra i due gruppi alternativi non possiamo dire del centro-sinistra perché uno non è il centro-sinistra alternativi al centro-destra Stefano Marchigiani Stefano Marchigiani è un esponente politico molto conosciuto a Fano ha ricoperto la carica di vice sindaco nella prima amministrazione seri assessore alla cultura un esponente molto molto impegnato nei settori anche nell'urbanistica lui per esempio è architetto quindi ha una certa cultura un certo savoir-faire per quanto riguarda questi settori ed ora esprime un po' il dissenso la discontinuità in merito alla giunta che attualmente governa la città di Fano vediamo anche qualche appunto che fa il resto del Carlino Marchigiani non ha risparmiato critica all'amministrazione serie in particolare all'azienda pubblica dei servizi alla persona con l'esclusione del terzo settore per quanto riguarda la riforma dell'ambito sappiamo come l'attuale amministrazione ha preferito dotare l'ambito di una governance che fa perno su un amministratore unico escludendo invece il consiglio di amministrazione seri è un dirigente di azione ha cercato di rassicurare Marchigiani e lungi da noi fare una campagna elettorale contro basta con questa falsa narrazione è intervenuto il consigliere comunale Giovanni Fontana del Movimento 5 Stelle di chi sostiene che vogliamo buttare tutto di questa esperienza amministrativa e insomma sembra che il Partito Democratico abbia preferito parlare più di candidature che di programmi questa è un po' l'accusa che fanno i progressisti per la rottura delle trattative ed ora vediamo invece delle proposte che fa un ex consigliere comunale ora aderente a Bene Comune e quindi anche simpatetico al Movimento 5 Stelle ed è Luciano Benini fotovoltaico, ciclabili e green l'ex assessore Benini indica la via il buon esempio dovrebbe darlo l'amministrazione comunale ha detto installando i pannelli sui suoi tetti sui tetti dei suoi edifici e poi una capillare rete di percorsi a pedali per favorire la mobilità dolce anche per i bambini allora vediamo le proposte che fa Benini uno che ha passato una vita all'ARPAM e quindi conosce bene questi problemi partiamo dal fotovoltaico il buon esempio ha detto Benini dovrebbe darlo l'amministrazione comunale installando impianti fotovoltaici su tutti i tetti comunali e piazzando pensiline fotovoltaiche in tutti i parcheggi pubblici con ricarica anche gratuita anche gratuita per veicoli elettrici, auto, motorini e biciclette così da ridurre le emissioni nocive nell'aria e poi suggerisce anche di realizzare una buona rete di piste ciclabili collegate tra loro per favorire la mobilità dolce anche per i bambini oggi quasi impossibile senza la presenza di adulti insomma si tenta tanto di favorire il transito dei bambini il passaggio dei bambini sulle strade da soli per raggiungere la scuola insomma però questo è un esperimento che fatica a realizzarsi compiutamente qualche bambino c'è che va a scuola da solo ma insomma non è la maggioranza ed ora passiamo alle altre notizie ieri è stata presentata una nuova iniziativa del sistema bibliotecario fanese si tratta di un invito maggiore alla lettura un obiettivo che le biblioteche fanese perseguono da tempo si tratta di un pieno di libri la cui edizione invernale ha raggiunto la terza edizione che cosa consiste? consiste nella messa a disposizione di tanti tanti libri alle scuole pensate che in tre anni l'iniziativa ha coinvolto 3500 alunni in diverse scuole fanese sia le primarie che le scuole medie insomma sia le elementari che le scuole medie e i bambini leggeranno questi libri e poi incontreranno gli autori quelli che li hanno scritti questi libri si confronteranno con loro e alla fine ci sarà anche un concorso per la migliore poesia che sarà composta sui temi suggeriti dai libri stessi e quindi una iniziativa che comincerà lunedì prossimo e poi si alternerà con diversi appuntamenti nel mese di marzo ed ora lasciamo Fano vediamo i comuni dell'entroterra e vediamo che a Mondavio a Mondavio sventola la bandiera arancione ebbene c'è un grande entusiasmo per questo obiettivo raggiunto nel comune di Mondavio la conferma del vessillo per il triennio 2024-2026 e la conferma è arrivata dalla Bossa Internazionale del Turismo l'assessore Bonifazzi dice che orgoglio è un bellissimo riconoscimento di qualità turistico e ambientale mantenuto dal comune di Mondavio da oltre 20 anni una accoglienza nei confronti dei turisti dei visitatori di grande qualità ceriamo ancora la pagina e vediamo Urbino a Urbino si parla di viabilità e di riapertura di una struttura importante come la galleria di Cagulino riaprirà però a una sola corsia i lavori di ripristino sono ancora lunghi da compiere ma intanto si pensa di attivare solo un senso di marcia non è il massimo però insomma qualcosa è ancora da stabilire quale sarà quello verso nord quello verso sud comunque servirà ancora un mese per la riapertura della galleria di Cagulino che per ora sarà in modalità provvisoria comunque anche questo annuncio è importante e per quanto riguarda invece Fossombrone si parla dell'ospedale nuove donazioni all'ospedale piano di investimenti per il 2024 il comitato per il ripristino del nosocomio della città metaurense però critico passerella politica quella che si è svolta nei giorni scorsi si è ribadito che rimarremmo come siamo per l'assessore Saltamartini il piano socio-sanitario regionale costituisce una base di politica sanitaria diversa secondo quanto ha illustrato prima della nostra elezione ha detto la giunta precedente aveva previsto la chiusura di 13 ospedali ora questo non si farà più e questa è già una conquista anche per Fossombrone invece è piuttosto critico dobbiamo dire Cristiano Coyne del comitato dei cittadini che rivolgono l'ospedale l'occasione si è trasformata in una passerella politica dell'amministrazione regionale ha detto quanto al nocciolo dell'incontro si è ribadito che Fossombrone resterà ospedale di comunità punto insomma non è che si è fatto un gran passo avanti secondo i cittadini questo è quanto dichiarano loro stessi vediamo una pagina di Pesaro dove si parla dell'audizione che il presidente della provincia ha svolto davanti alla Camera per quanto riguarda la controversa situazione di Riceci della discarica di Riceci eccomafie il caso Riceci Paolini annuncia il colpo di scena e i commissari convocano T.V. Roli ebbene ieri Paolini di fronte alla commissione ha parlato ma così in generale della presenza della mafia nella gestione delle discariche ieri alla Camera l'audizione del presidente della provincia si va verso il no definitivo per quanto riguarda la discarica Paolini si è dissociato anche se c'è stato un momento in cui il suo rappresentante Maurizio Mazzoli era nel CDA di Marche Multiservizio e aveva approvato la discarica dicendosi all'ingresso di Marche Multiservizio né di Marche Multiservizio della società Aurora ora però i parlamentari vogliono ascoltare il padre del progetto ovvero lo stesso T.V. Roli l'amministratore di Marche Multiservizio giriamo la pagina vediamo che per quanto riguarda il terzo mandato per i sindaci c'è Ricci che non molla anche se il Partito Democratico va in tilt insomma è una proposta è un obiettivo questo che percorre soprattutto la Lega vuole che i sindaci facciano il terzo mandato ma non solo i sindaci anche il Presidente della Regione il riferimento il riferimento al Presidente del Veneto è ovviamente puntuale perché insomma è Luca Zaia che viene tirato in ballo da questo articolo però insomma Ricci sembra che abbia una posizione un po' difforme da quello della sua segretaria nazionale la Sline che è contraria al terzo mandato invece Ricci sembra favorevole almeno così risulta dal giornale giriamo ancora la pagina vediamo che c'è un articolo di cronaca metteva online i nostri filmati hot lui sotto processo per maltrattamenti è la denuncia della moglie 50 anni che ha denunciato l'ex per i video dei loro rapporti ieri la testimonianza di fronte al tribunale poi ha ritirato la querela questo insomma è uno dei fatti piuttosto tristi insomma che si verificano e salgono alla ribalta di fronte al giudice volevo vedere anche se riusciamo a dire qualcosa a questo punto possiamo passare al corriere adriatico ecco qua l'apertura sulla pagina di Fano sotto passo bocciato il progetto della rete ferroviaria italiana forte impatto salvate i 16 alberi stop della soprintendenza per Viale Cairoli esulta il comitato che aveva mosso gli stessi rilievi ebbene era tutto pronto per cominciare i lavori per la riqualificazione di questo sottopasso però c'è stata la soprintendenza che ha voluto dare il suo parere e dopo che è stato esaminato il progetto il parere è stato negativo insomma è un viale che deve così mantenere la sua conformità il suo carattere la sua atmosfera di viale ottocentesco e così deve rimanere il problema del passaggio dei disabili adesso deve essere risolto in un altro modo speriamo che lo sia perché insomma è importante che anche coloro che si muovono in carrozzella non debbano fare il giro per via Fabio Filzi insomma allungare molto poi via Fabio Filzi è anche una via piuttosto pericolosa stretta dove si passa a fatica oggi in marcia marciano i trattori in città disagi al traffico dalle 9 alle 12 quindi fate attenzione vogliamo dignità e il giusto prezzo dei nostri prodotti hanno detto gli agricoltori e qui abbiamo anche la presentazione del candidato sindaco dei progressisti attuata ieri in un bar della nostra città con tine fricciate a seri comunque non si butta via il bambino insieme ai pannolini questa è un po' è stata un'immagine che è stata evocata più volte nella giornata di ieri però insomma qualcosa si salvaguarda di questa giunta altre cose invece vengono contestate ecco perché Stefano Marchigiani è uscito in questo caso dalla coalizione che governa la città di Fano e si è fatto candidato sindaco di un gruppo alternativo al partito democratico essere candidato sindaco è un'importante assunzione di responsabilità e ha detto Marchigiani responsabilità che intende declinare in una politica che accetti le sfide senza galleggiare e senza decidere di non decidere questa è una delle dichiarazioni che sono state estrapolate dall'intervento di Marchigiani un incidente stradale un incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze è accaduto ieri coinvolgendo una ambulanza della Croce Rossa schianto alla rotatoria tra ambulanza e SUV è accaduto a Santorso si è scontrata l'ambulanza con una Land Rover mentre trasportava un paziente spavento per le persone coinvolte ovviamente nell'incidente che è accaduto ieri intorno a mezzogiorno tra la rotatoria di via Soncino e di via Sant'Eusebio ma per fortuna nessuno si è fatto male danni soltanto ai mezzi e in articolo di spalla abbiamo la presentazione di un pieno di libri fatta dall'assessore alle biblioteche Samuele Mascarini e dalla bibliotecaria Lucia Muzio che ha coinvolto dicevo tanti tanti studenti ed ora vediamo anche sul Corriere Adriatico la critica del Comitato dei cittadini forsempronesi in merito alle decisioni regionali sul loro ospedale ospedale di comunità e telemedicina il punto salute sarà attivo a settembre ci sono assicurazioni da parte della direttrice dell'azienda sanitaria territoriale storti a Fossobrone con gli assessori Baldelli e Salta Martini però insomma rimane critico il Comitato in merito a questa decisione invece c'è una buona notizia che viene riportata a fondo pagina dal Corriere Adriatico in merito al trasferimento speriamo che sia così perché queste buone notizie sono apparse e poi sono state smentite questa volta però dovrebbe essere una buona notizia reale lo smaltimento dicevo dei fanghi che sono depositati da dieci anni dieci anni sia sulla banchina del porto che sulla superficie dell'ex Fantasy World a Torrette fanghi del porto dopo sedici anni saranno trasportati in Ancona nella cassa di colmata di Ancona una struttura molto molto così laboriosa per essere definita poi quando lo è stato ci sono state pratiche burocratiche che hanno dilungato ancora una volta i tempi ebbene qual è la notizia di ieri è che Garofalo il commissario per quanto riguarda l'autorità portuale Vincenzo Garofalo ha approvato il progetto di trasporto dei fanghi nel rispetto del programma che è stato stipulato pensate nel 2008 e poi rimodulato nel 2016 tra la regione Marche e il comune di Fano questa quantità di fanghi prelevati dal porto di Fano depositati tra virgolette temporaneamente in questi due siti la banchina e a Fantasy World finalmente verranno rimossi e insomma il porto riavrà la sua dignità e quest'area di torrette che avrebbe dovuto ospitare una struttura importante dal punto di vista turistico verrà sgomberata ormai è una collina che si confonde col paesaggio perché sopra i fanghi è nata l'erba insomma la cosa si è ricostituita siamo in conclusione voglio segnalarvi soltanto un'ultima notizia ed è la polemica tra Paolini e il sindaco Sebastianelli per quanto riguarda le strade di terre roveresche di sesto danni per 100 milioni le priorità sono di Sebastianelli questo è il titolo che evidenzia questa polemica che continua da diversi giorni e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.